Oggi la Chiesa ricorda San Callisto I, un Papa. Fu Papa dal 217 al 222, uno dei primi, succedendo a San Zefirino. Però la sua biografia presenta un po' di lati oscuri, anche a causa di polemiche di parte. Un certo Ippolito, autore dei Filosofumena, lo dice schiavo di un certo Carpoforo, che lo avrebbe incarcerato perché Callisto non era bravo nell'amministrare i suoi beni. Poi viene liberato temporaneamente, però fu tradotto in Sardegna e condannato ad metalla, come diceva allora, cioè a lavorare nel miniere, fino a quando la concubina dell'imperatore Commodo riuscì a ottenere la grazia per una lista dei cristiani che erano stati esiliati. Allora, lui torna a Roma e viene creato arcidiacono da San Zefirino, evidentemente lo conosceva e lo stimava, il quale gli affida la cura del più importante cimitero cristiano sulla Via Appia. E quando fu chiamato a succedere al trono a Zefirino, il santo però dovette misurarsi con due formidabili avversari. Questo è Ippolito, che è il probabile autore di quell'opera Filosofumena, e Tertulliano. Il primo lo accusava di aver errato sulla dottrina trinitaria, indulgendo all'eresia dei monarchiani che non ammettevano distinzioni fra le tre persone divine. L'accusa falsa, perché proprio Callisto, escluse dalla comunità ecclesiastica Sabellio, che dava il nome a questa eresia. Quindi l'accusa è infondata. L'altra accusa riguardava l'amitezza nella disciplina sacramentale e in genere nel governo della Chiesa. Callisto dichiarò legittime davanti a Dio le nozze tra ricchi e poveri, allora non si poteva, tra liberi e schiavi. Poi mitigò anche il rigore antico contro i rei dei tre peccati cosiddetti canonici, apostasia, adulterio e omicidio, i quali venivano assolti una sola volta dopo pubblica penitenza e coloro che vi ricadevano veniva negata per sempre all'assoluzione. Lui mitica, se uno è veramente pentito perché non dagli assoluzione. Ippolito allora si stacca dalla comunione con Callisto ponendosi come il primo antipapa della storia. Secondo la tradizione Callisto sarebbe morto martire durante una sollevazione, una sollevazione popolare pagana a Trastevere. Per questo fu sepolto nel cimitero di Calepodio anziché in quello sulla via Appia che porta ancora oggi il suo nome, le famose catacombe di San Callisto che molti di voi avranno certamente visitato andando a Roma. e a lui fu concesso però l'onore di una basilica sulla sua tomba, la basilica di Santa Maria in Trastevere bellissima edificata da San Giulio I.